Ma lei? Lei ha scelto di seguire le orme di suo padre? Mio padre era un buon poliziotto. Come lei? E suo padre le ha mai parlato delle bambine? Non capisco. E quando non capisco preferisco andarmene. No, no, si fermi, resti. Stia qui per cortesia. Mi scusi, è del materiale di lavoro. Ho capito il suo gioco. Lei mi sta provocando. Quella è la bambina. Tania? Si sbagli. Certo, certo. Adesso ogni cosa che dico e faccio è pesata con un fottuto bilancino di precisione. Cosa sta cercando di mostrare? Che sono un razzista. Che mi piacciono i bambini. Si calmi, non peggiori la situazione. Mi ascolti bene, voi fingete di dimenticare. Ma in realtà non vi dimenticate quello che ho fatto. Io per voi sono uno sbirro che ammazza i bambini. No, ora è lei che mi prende in giro. È lei che fa finta di dimenticare, caro Bassano. Quel fascicolo non è il mio. Non è vero? Non è vero? Non è vero. Questa qui mi sembrava venuta particolarmente bene è quasi identica al suo genitore ma non sopravviverà all'inverno Devo avere sbagliato periodo e le radici non hanno attecchito bene sono nella terra ma sono già morto Adesso che sa l'identità dei due che stanno dietro le porte chi sceglie l'Aula B? La bambina è la sua integrità o le sue radici Tu sei pazzo Tu sei uno stronzo Sei tale quale tuo padre è questo quello che scriverai nel tuo rapporto non è vero? Nonostante tutto ti regalava le macchinine della polizia oppure ti regalava quelle... quelle dei rapinatori? Mio padre non mi regalava le macchinine mio padre mi regalava le pistole mio padre mi regalava le pistole nonostante tutto